La Polizia Metropolitana ha delle regole di ingaggio che io ho fortemente rafforzato e motivando il personale, trovo assolutamente fondamentale il lavoro che fanno in materia ambientale sulla cosiddetta terra dei fuochi, trovo assolutamente importante il protocollo che abbiamo firmato, rafforzato e consolidato con le procure della Repubblica del Distretto, poi ci sono anche altre attività che chiaramente possono fare, ma quelli che sono i compiti spettano alla Polizia Metropolitana, a chi le dirige con la supervisione del Direttore Generale. Da parte mia l'input che hanno sempre avuto è quello di lavorare al massimo nei settori che sono di loro competenza secondo le attribuzioni che sono stabilite alla città metropolitana e quindi alla Polizia Metropolitana. Grazie.